Pijamask, la torta di compleanno. Greg ha fatto tantissimi preparativi per la sua festa di compleanno, ma ora tutti gli addobbi sono spariti ed è sparita anche la sua favolosa torta a forma di gecko. Chi è stato? Super pigiamini pronti all'azione, di notte salviamo la situazione. È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Greg diventa gecko, Connor diventa gatto boy, Amaya diventa gufetta, sono i Pijamask. Perché non compri la torta a tema maestro Feng? Secondo me è favolosa, dice gatto boy. No, ribatte gecko, dobbiamo recuperare la mia gecko torta. Useremo la gecko mobile. Uh gechi guizzanti, ma quella è la mia torta. L'hanno presa i mini ninja. Presto andiamo a riprendercela. Ma la torta ormai è nelle mani del perfido ninja della notte. Super pigiamini siete venuti alla mia festa? Voi non siete invitati. Non è il tuo compleanno e certo non festeggerai con la mia torta, ribatte arrabbiatissimo gecko, mentre i mini ninja lo prendono in giro. Facciamo il gioco delle sedie, fa il ninja della notte. Chi vince avrà i palloncini di maestro Feng. Giochiamo anche noi, sussurra gecko. Io mi faccio eliminare subito e cerco di prendere la torta. Voi tenete impegnato il ninja della notte. In questo gioco, quando la musica si ferma, ognuno deve sedersi. Se trova una sedia libera. Gecko è il primo a rimanere senza. Hai perso, dice il ninja della notte. Sei eliminato. Noi riprendiamo a giocare invece. Così gecko indisturbato riesce a riprendersi la torta e scappa, raggiunto subito dopo dagli altri due super pigiamini. Gattoboy arriva con i palloncini. La festa tema maestro Feng per lui sta diventando una vera ossessione e non riesce davvero a capire perché gecko non voglia quella torta favolosa. Ma ecco arrivare il ninja della notte, proprio con la torta di maestro Feng. Io volevo la torta a forma di gecko, ma dovrò accontentarmi di questa, a meno che non vogliate fare cambio. Per gattoboy la tentazione è troppo forte e scambia le due torte senza pensarci due volte, povero gecko. Ma è una trappola dei ninja. Questa è una torta che esplode e spruzza crema dappertutto e chi tenta di pulirsi resta completamente appiccicato. E adesso? Con un trucco furbo i pigiamask spingono il ninja della notte a infilarsi nella gecko mobile, ma lì ben nascosta c'è la torta che esplode appiccicandolo tutto. Super pigiamini fate festa, sarà una bella giornata anche questa! Fine.